Praticamente ti ha conosciuto, l'hai cominciato ad allenare e alla fine a un certo punto dello supercorso di allenamento ha capito che doveva smettere di correre in bici. Purtroppo. Lei ha detto, caro mio ascolta, è meglio che smetti. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Contropendenza Podcast. Contropendenza Podcast, puntata mattiniera questa, quindi ci vedete magari un pelino assonnati rispetto al solito, sapete che questo podcast è abbastanza notturno, è registrato sempre in ore tarde della notte. Oggi con noi c'è un personaggione, secondo me, dal mio punto di vista, direi proprio di sì, anche perché abbiamo un lungo passato, lo conosco da praticamente una vita, è stato il mio primo allenatore. Quando ho cominciato a correre in bici da corsa, ma quella è solo la puntina dell'iceberg sotto la figura di Simone. Con noi oggi appunto c'è Simone Bortolotti, non so neanche come definirti, preparatore atletico? Va benissimo. Va benissimo. O coach. Coach, coach, coach. Quindi dai, come al solito facciamo un piccolo intro della tua persona e poi basta, poi parto alle domande. Tobi è un fucatissimo anche prima di registrare, ha già… Le ho già esaurite praticamente. Vai Simo, tutto tuo microfono. Buongiorno a tutti, sì, sono Simone, come diceva Andrea, sono un coach, come definirmi, se non con altre parole, anche perché il coach è quella figura che ti porta da A a B. Mi piace fare questo, aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi. Tipicamente sportivi, entrando ancora più nello specifico mi occupo di sport di resistenza, soprattutto mountain bike o comunque triathlon, corsa, questo tipo di attività. Lo faccio curando, diciamo, l'aspetto e la parte atletica della persona, ma anche, come sai, l'aspetto mentale. Tant'è vero che sto continuando ad approfondire proprio questo argomento che sarà probabilmente sempre più presente nel mio futuro lavorativo, ecco. Infatti mi ricordo che anche quando abbiamo fatto quel mini progetto del tentativo di battere, non battere niente in realtà, dovevamo fare il più dislivello possibile in bike park, la parte mentale era molto molto presente nella preparazione che abbiamo fatto. Preparazione, dai, non è stato chissà cosa, però comunque abbiamo lavorato abbastanza bene da quel punto di vista. Sì, mi ero divertito. Diciamo che il coaching, il mental coaching professionale è un qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto. Nel senso che il mental coaching professionale è proprio basato su un vero e proprio percorso, con delle vere e proprie sedute dedicate, più o meno strutturate, chiaramente a seconda del coach e del coachee che hai davanti. Però sicuramente molti elementi di quelli che utilizzo quotidianamente fanno parte di questo percorso. Poi io non ho ancora iniziato, se non con qualche atleta, a strutturare proprio bene il percorso di mental coaching, ma sarà sicuramente il futuro. Ragazzuoli, cominciate con le domande, visto che ne avete mille e mila. No, visto che si parla comunque di attitudine mentale, preparazione mentale, in realtà ne abbiamo già parlato anche, se vi ricordate, con Eleonora Farina. Lei comunque dà molta, molta importanza alla preparazione della testa. Secondo te, per esempio, abbiamo sempre parlato fino adesso di discipline gravity, quindi dove la parte mentale ha un certo tipo di importanza. Per quanto riguarda invece le discipline di resistenza, quanto secondo te, diciamo così, su cento è importante la testa rispetto ovviamente alla preparazione fisica? Sì, chiaramente è molto difficile dare una percentuale, però ti posso dire che le cose palesi e chiare sono che più si allungano le distanze, più è importante la testa durante la gara. Invece, se per esempio penso a discipline molto più brevi, quali il gravity, eccetera, chiaramente alcuni aspetti mentali sono accentuati durante la gara. Per esempio, la capacità, quella che si chiama di sincronia, cioè la concentrazione nel momento presente. In una gara che dura un minuto, un minuto e mezzo, deve essere ad un livello molto più alto rispetto a una gara di quattro ore, nella quale magari la sincronia può essere, diciamo così, ad un volume leggermente più basso, se non in alcuni momenti in cui magari è molto importante avere un'attenzione massima, però non costante per quattro ore, chiaramente. Quindi, essenzialmente, un atleta durante le quattro ore deve anche imparare a gestire la concentrazione, cioè c'erano momenti in cui deve essere più focus, invece momenti in cui può, fra virgolette, rilassare un po' più la mente e concentrarsi sul vero e proprio sforzo. Esattamente, la testa funziona un po' come una centralina della macchina. In una gara molto lunga è giusto che si alternino vari tipi di pensieri, vari tipi di attitudini che devono servire proprio in quel momento lì. Per esempio, mi viene da pensare che su un finale di gara, anche se molto lunga, il fattore attivazione, cioè la parte motivazionale, deve essere al massimo livello. Magari, invece, nella prima parte di gara, poi dipende molto dal percorso, dal tipo di atleta, dalla strategia, tante cose, però la gestione energetica, quindi l'aspetto mentale che regola e gestisce l'aspetto energetico, deve essere più marcata, più sviluppata, più spiccata. Cioè, devo saper risparmiare energie in questo momento, perché poi so che mi dovranno servire poi. Più avanti, più avanti. Quindi, sostanzialmente, durante le quattro ore un atleta impara sia ad attivarsi e diattivarsi a seconda del momento. Esattamente. Che secondo me, in realtà, è una cosa molto difficile da fare. Io avevo approfondito questo argomento quando, ovviamente, facevo gare d'enduro, perché il fattore attivazione e diattivazione è molto importante, perché, nel senso, parti diattivato, quindi ti fai tutta la tua salita, nel momento che ti prepari per fare il tuo stage, ti attivi e dopo, comunque, devi essere anche bravo a deconcentrarti e rilassarti di nuovo per, appunto, recuperare tutte le energie possibili. Quindi c'è un vero e proprio allenamento per imparare questa cosa. Sì, un allenamento che può essere un allenamento che si fa, diciamo, prima della competizione, ma anche si può studiare a tavolino una strategia di questo tipo, con degli attivatori. Cioè, io so che quando metto, che ne so, il casco, da lì il mio status mentale deve cambiare. So che quando, so, metto i guanti, per esempio, che ne so, un gesto associato, che si chiama ancora, associato a un tipo di caratteristica mentale, così, che deve essere attivata. In questo caso stai parlando di quello che io chiamo flow, cioè… La trans agonistica. Sì, una trans agonistica che ha, come dicevamo prima, appunto, dei volumi diversi, come fosse un mixer, in base al momento della competizione, della gara. Tipo Valentino Rossi, quando si accucciava di fianco alla moto, poi partiva, si sistemava la tuta, quelli sono tutti attivatori. Esatto, sono rituali di attivazione più o meno scaramantici, perché c'è una differenza tra rituale di attivazione e il rituale scaramantico. Il rituale di attivazione ha un senso di esistere per la mente, perché esiste un prima e un dopo, come stato mentale. Il rituale scaramantico è una cosa un po' più… non so definirla bene, ma ha meno a che fare con l'aspetto di attivazione. Per esempio, un rituale scaramantico può essere quello di andare a dormire la sera prima con quella maglietta rossa, perché mi ha portato fortuna. Tipo i piloti che corrono sempre con lo stesso paio di mutande. Esatto. Questo non ha a che fare. Il nostro amico Tobi, vi ricordo che quando eravamo compagni di squadra, faceva un po' di maghezzi. Tipo Tobi racconta. Sono sempre stato super scaramantico. Davvero? Non so, mettevo… I cornetti mettevi? Mettevo sempre gli stessi calzini. Ma per correre? Sì, per correre. I primi calzini che mettevo a inizio stagione, utilizzavo sempre lo stesso paio. Ma se la prima gara fosse andata male, aversi comunque usato quei primi calzini? Sì, non cambiava niente. Però quei calzini… Calzini un po' usati poi alla fine. E quello, poi vabbè, i guanti sempre messi in accesso, diciamo così, nel stesso modo. Le mele verdi? Dopo… Ah sì, mai mangiato. Io avevo questa cosa qua e ce l'ho ancora in realtà, che la mele verde porta sfiga. Io mi ricordo… Prima delle gare, mai mele verde, ma proprio non volevo neanche vederle. Cioè, quindi se per caso fosse arrivato un bel vastoio pieno di mele verdi a tavola prima della gara, basta. Alle prime trasferte, che eravamo in squadra insieme, arriviamo al supermercato, zona frutta, prendo le mele verdi, lui mi guarda così. Scusate, non si sentiva. Lui mi guarda così. Io cosa ho fatto? No, 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 vecchio. Mettile giù, mettile giù. Sì, ma questa è una. Poi non so, prima ovviamente alla partenza di ogni stage, mettevo la maschera ai 15 secondi, dopo facevo l'ultimo sorso d'acqua ai meno 30 e dilutivo ai meno C. Ma cose che per me arrivare comunque alla partenza dello stage era uno stress immane. Capisco tante cose adesso, Tobi. Capisco tante cose. E comunque, in realtà, tutto questo processo mi è sempre servito anche per concentrarmi. Perché una cosa che ho capito è che, almeno come atleta, per virgolette, sono sempre funzionato bene quando ero sotto pressione. E magari, sai, non è sempre facile ogni gara metterti addosso a un po' di tensione. E tutto questo processo qui, in realtà, mi faceva arrivare nel focus giusto a livello mentale. Questo qua poi l'ho imparato anche approfondendo, come ho detto prima, tutta questa parte del coaching. Sì, il tuo, da quello che mi racconti, è un misto tra scaramanzia e rituali veri e propri di attivazione. Un po' come le gestualità, prima del cancelletto di partenza, accendessero degli interruttori mentali che ti dovrebbero portare, dal momento dello start, alla massima prestazione. Quindi non era proprio scemo quello che facevi. Anzi, aveva un senso. Dopo vent'anni. In realtà non vedevo l'ora che tu glielo dicessi. No, sì, mi sentivo, secondo me, alla fine facevo un po' troppe cose. Però, non so, anche il rapporto lo mettevo nel senso, mettevo sempre gli stessi apporti di partenza. Comunque avevo, mettevo il pedale nel posto giusto, sì, quello dietro ovviamente. Ma tu hai fatto ancora un percorso con un coach, con un mental coach? Sì, sostanzialmente il mio preparatore mi ha fatto un po' di... Anche lui ha approfondito, perché comunque, come ho detto prima, la parte di mental coach a volte è veramente molto, molto importante per un atleta, no? Quindi molti preparatori in realtà poi, alla fine dei conti, approfondiscono. Questa cosa qua, e anche il mio aveva fatto questo percorso, quindi qualche dritta me l'aveva data, insomma. Una domanda, Simo, ma visto che ho sempre... Aspetto che sto capo come al solito le balle, ok? Visto che per la parte atletica si nasce o no, almeno in quella idea di che o nasci cavallo da corsa o nasci asino e non puoi diventare un cavallo da corsa se sei un asino. Anche per la parte mentale dici che, cioè tu pensi che devi già nascere con delle caratteristiche naturali e predisposizione per avere un certo tipo di asset, un certo tipo di attivazioni, oppure si può allenare e comunque diventare forti da quel punto di vista lì con l'esperienza? Allora, noi nasciamo con un corredo cromosomico, come sai, con un DNA, cioè mamma e papà sicuramente ci danno una base di partenza. Un po' come il discorso del talento, poi una certa parte di questo, anche dell'aspetto mentale, ce l'hai innata. Non dimentichiamoci che chi ha studiato i modelli prestativi per poi diffondere e approfondire e creare un metodo nella psicologia dello sport, l'ha fatto studiando i talenti. Cioè tu osservi, scrivi quello che fa Valentino Rossi, quello che fa tutti i talenti dello sport e trovi delle caratteristiche in comuni, dei talenti in comuni che hanno queste persone qua. Queste persone qua chiaramente non hanno avuto un mental coach. Vent'anni fa non esisteva, anche meno forse. Quindi sì, la tua risposta è certo, si ha una predisposizione. È chiaro che da lì, dalla tua base, poi la puoi migliorare, chiaramente. Fino a quando? Non te lo so dire. Cioè fino a dove puoi arrivare? Non te lo so dire. So dirti nella mia esperienza, io applico diciamo queste tecniche da circa sette anni. Ho trovato delle persone con le quali, anche con sedute molto specifiche, anche con un lavoro profondo, sinceramente ne ho cavato un po' un pochino. Magari per una mia inesperienza oppure una mia inefficienza non era ancora sufficiente. Un quantibilità magari anche tra persone. Esatto. Con altre persone, con due o tre sedute, hanno veramente svoltato. Probabilmente cose che già sapevano senza sapere di sapere. E quindi quando gliele butti davanti… Si hanno la consapevolezza e quindi poi… Esatto. Esatto. Figata così. No, perché sai, è sempre un aspetto molto difficile da spiegare. È come quello dei problemi fisici o dei problemi mentali. L'unico fisico, sì, è risaputo, è una cosa comune. Ma sempre un problema mentale, no, non esiste. In realtà ad un osservatore attento e istruito è molto lampante quale è il problema mentale anche solo osservando l'atleta e la persona. Infatti quando io vado sui campi gara o quando osservo le persone, forse qualche feedback in passato l'ho dato anche a te, secondo me anche a Erwin appena appena, che erano forse più tentativi di allenare me stesso, non erano veri i propri consigli, però guardando, osservando le persone si possono capire molte cose sull'aspetto mentale. Ti faccio un esempio palese. Io vado a osservare un'atleta e vedo prima della partenza che magari balbetta, piuttosto che ha una sudorazione eccessiva, ha 20-30 battiti in più del normale, è insicuro, eccetera. Io so già che questa persona sicuramente, almeno in quel momento, ha un problema di sicurezza, ha un problema sui punti di forza. Quindi è un problema mentale, un limite, se vuoi, migliorabile dal punto di vista mentale. Magari non è consapevole dei suoi propri punti di forza, oppure, non lo so, un altro esempio. Questo è quello più lampante, attualmente mi trovo molto con questo problema qua. Persone distratte. Che chiacchierano magari? Sì. Le sparancagate con gli altri atleti lì. Sì, oppure persone che magari sotto sforzo ti guardano, riescono a vedere il pubblico fuori, riescono a riconoscerti tra la folla e salutarti. Sono segnali che mi fanno capire che quella persona non è concentrata su quello che sta facendo. Quindi c'è un problema di sincronia, un problema di concentrazione. Mi è capitato tre o quattro anni fa, vado a vedere una gran fondo, una gara, qui sul Garda, e c'è un atleta in salita, circa metà gara, che non conosco, ma era nel gruppo dei primi. E sai, io vado a osservare quelli che alleno, ma vado a vedere un po' anche gli altri, una persona che mi piacerebbe allenare o meno. E vedo che questo salendo si gira, mi guarda con la bocca chiusa, mi dice, ciao Simone! Cioè, io non lo conoscevo, lui mi conosceva, era nel gruppo dei primi, mi ha riconosciuto e mi ha salutato. Io mi giro verso mio papà e dico, io questo qua lo voglio allenare. Pisa quanto forte potrebbe andare. Esatto, perché tu dici, non può essere che sei nel gruppo dei primi, stanno menando, tu sei così distratto, vuol dire che c'è un potenziale incredibile. E poi sono riuscito ovviamente ad allenarlo, cioè ovviamente no, ma nel senso ho cominciato un po' come dire a pasturare un po', eccetera, questo qua lo voglio allenarlo. voglio allenare e sono riuscito ad allenarlo. Abbiamo fatto sei, sette mesi, le cose stavano andando veramente bene. Cioè proprio, vedi proprio i numeri, vedi anche l'attivazione, vedi la persona che ti ha capito, c'è proprio feeling, dici questa qua, bella storia, no? È bello lavorare così. Se non fosse che poi andando dentro nelle cose, andando dentro nelle persone, no? Quando scavi veramente in profondo, capisci che purtroppo quello che sta facendo non è quello che vorrebbe fare della sua vita. E quindi come coach è giusto che lo porti non dove vuoi tu, ma dove vuole andare lui. E quindi ha smesso. Non grazie a me, ma sicuramente gli ho dato… Atticamente ha conosciuto la persona che l'ha fatta smettere. E mi ringrazia ancora, ma guarda, non posso… Ma stai scherzando? Sì, mi ringrazia ancora, non posso… Ma così proprio, cioè proprio… Praticamente ti ha conosciuto, l'hai cominciato ad allenare e alla fine è stato un punto dello suo percorso di allenamento, ha capito che doveva smettere di correre in bici. Sì, purtroppo. Lei ha detto che ero mio, ascolta, è meglio che smetti. Ma non è il tuo. Veramente, veramente è stata così. È stata così e ho ricevuto anche telefonate… Canto fai al suo smettere di correre gli atleti? Sì, però questo è veramente, veramente contento. Ancora adesso siamo proprio… Magari non lo sento più spesso, ma mi ringrazia veramente tanto perché ha trovato quello che vuole fare. La sua pace interiore. Sì, sta molto bene. Ma fa altri sport o proprio basta? Fa altri sport, non agonistici però. Ha unito proprio una sua passione per la montagna, per la natura, anche per la bicicletta, ma non solo. Quindi dici che quella persona secondo te non stava bene mentalmente, non stava bene in un ambiente di gara così stressante, la sua vita non era nell'agonismo. Sì, ho scoperto Andrea con il tempo che chi fa sacrifici è perché non sta facendo quello che vuole fare. Cioè gli atleti che ho allenato veramente ad altissimo livello, cavolo che fanno una vita… Alleno e seguo anche un calciatore che adesso è arrivato in Serie B, un portiere, che è a via di casa da quando aveva 14 anni, da solo. Questo non fa sacrifici ad allenarsi tutto il giorno, cioè è veramente quello che vuole fare, è fatto per quello. Poi c'è chi deve impegnarsi un po' di più, chi deve tenere duro, magari che i momenti bui ci possono stare in un anno. Però se in 12 mesi tu fai un mese di sacrificio va bene, un mese e mezzo va bene. Se ne fai 11… No, comincia a dire, uè… Eh, non è il massimo. No, ma anche 12 quando correvo su strada. Ma sai cosa, che più che altro non ho 12 mesi, magari fai 4, 5, 6, 7 anni e comunque nel senso ci sta. Io ho parlato con un ex pro ormai di bici su strada, che eravamo andati a fare un giretto in bici in enduro vicino a Sella Ronda, quella zona lì. E così, siccome aveva 37-38 anni, gli ho chiesto, ma com'è sta storia che ti alleni ancora tutti i giorni, una marea di ore? E sì, gli ho detto, cioè dove trovi la voglia di alzarti la mattina, andare fuori con la pioggia, siccome anch'io mi stavo allenando abbastanza bene in quel periodo. E ne avevo un po' piena le palle, insomma, di fare tutta sta roba. E lui a cazzo 38 anni vuol dire che ne aveva già più di 10 in più di me di giornate e così. Allora gli chiedevo un po' che cosa ne pensava e così, no? E la sua risposta è stata che finché lui si alza la mattina e non gli pesa uscire di casa in bici e farsi 6 ore sotto la pioggia, era giusto continuare ad andare in bici, allenarsi e far le gare. Ha detto, il primo giorno in cui mi alzerò, che sento che non è più quello che voglio fare, smetterò. E così è stato, due anni dopo. È stato il momento in cui... Comunque adesso fa il direttore sportivo di una squadra grossa, quindi... Comunque abbiamo capito che... Era stato in ambiente. Quando Erwin e Simone incontrano un atleta per strada, quell'atleta smetterà di correre, è finito. Però sono state belle parole, secondo me. Cioè, ispirazionali. Molto illuminante, sì, sì. Beh dai, a 38 anni, finire una carriera ci sta, dai. Porco cane, ormai ne hai viste? Sì, ma lì era ancora in pieno, c'è una famiglia, due figli e tutto. Gli ho detto, ma come cazzo fai? Cioè, tutti i giorni, tutti i giorni, da vent'anni o di più, non so da quanti anni ha cominciato, era mirevole. Ma sai cosa? Dal mio punto di vista, però... Secondo me alcune persone hanno un livello tipo di amore per quello che fanno, comunque non so... Ossessionati sono, secondo me. Ossessionati e comunque proprio gli piace. Per la fine, una grossa differenza che fa, cioè la grossa differenza che fa da una persona normale un campione è proprio il tempo che tu sei disposto a dedicare a quella cosa e la qualità di tempo che ci dedichi. Un campione è talmente innamorato di quello che fa, ha talmente voglia di farlo, che ci sta le giornate dal primo giorno, da come diciamo così noi tutti penso che abbiamo incominciato ad andare nei bici, i primi giri che abbiamo fatto da piccoli erano proprio... cioè, io non volevo smontare dalla bici di base. Soltanto che questa cosa qua, a un certo punto, fra virgolette, lo... Hai altre priorità, eccetera. Invece, chi è veramente innamorato e super focalizzato di quella cosa è chi poi alla fine... Non esiste altro per lui. Ho visto molte più persone arrivare, diciamo che poi arrivare cosa vuol dire? Intendiamo con arrivare, riuscire a fare veramente ciò per la quale sei nato, che ti piace fare. Ho visto più persone arrivare lì attraverso il lavoro rispetto a persone che sono arrivate lì proprio per il puro talento. Il puro talento lo vedi molto con i ragazzini, con i bambini. Quindi, 15, 16 anni, 17, è uno spettacolo andare a vedere le gare. Lì vedi i talenti, vedi proprio numeri incredibili, gente che va veramente forte, qualcosa in più degli altri. Ma non sono questi qua normalmente, a parte delle volte non sono loro quelli che arrivano a fare magari il pro. Il fuoriclasse, per definizione, lasciamolo stare, è un'altra cosa. Cioè, il fuoriclasse è quella persona che ha il talento naturale, fisico, il talento mentale, all'amore, alla capacità di lavorare, a tutte queste cose qua, senza che nessuno glielo insegni. Innate. Innate. L'unica cosa che può fare un allenatore per questa persona qui è rovinarlo. È già, è un predestinato. Ci sono, però ne nascono pochi. Normalmente ci si arriva con il lavoro. Tra alti e bassi, sviluppi, risultati, problemi, superi i problemi, ti alleni, eccetera, e poi si arriva, insomma. Essere un predestinato è per pochi. Certo, io non penso di averne mai riconosciuti o visti di veramente così fuoriclasse, ma tutti dicono che quando lo incontri lo riconosci proprio lontano, un chilometro. No, 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 non sto pensando se ne ho mai visto qualcuno. Hai provato a guardare dentro te stesso? No, forse è l'unico che posso dire anche nel senso, perché l'ho vissuto, essendo comunque del 91 quando correva in cross country, io non lo conosco bene, nel senso, ci ho parlato qualche volta, però sentendo un po' le storie delle persone che lo conoscono, Gerhard, Chris Baumer, è uno di quelli che mi hanno detto che poi addirittura l'anno in cui, nel 2019, ha vinto la Coppa del Mondo in Andorra, non aveva neanche un preparatore, tipo una cosa del genere. Usciva il valore, la sua forza è stato anche proprio il fatto di essere, diciamo così, libero un po' di fare e di allenarsi come vuole. Poi non so, adesso io ho sentito e letto quello che hanno letto tutti sugli articoli, sui giornali, riguardo al fatto che se non sbaglio fino all'anno scorso aveva un preparatore, perché poi ha scelto di affidarsi a un preparatore e in poche parole non rendeva più, come prima, e è tornato indietro, ha fatto proprio questa scelta di tornare ad allenarsi liberamente, da solo. Adesso io non so, non seguo il cross country, quindi non so dirti a che punto è, però sì, lui ha fatto questa scelta, potrebbe essere anche un limite, potrebbe anche essere un limite perché tante volte invece avere una persona dall'altra parte che chiaramente deve essere compatibile con il tuo carattere, ti porta sicuramente a continuare a migliorare. Magari ha scelto, penso io, non lo so, non conosco, però se ha scelto un preparatore, magari bravissimo, bravissimo, preparatissimo, ma uno di quei preparatori che ti dicono che cosa devi fare, con lui non funzionerebbe. Assolutamente, beh, questo qui è un altro personaggio che dobbiamo segnarci di intervistare, André, sicuramente. Assolutamente, abbiamo una lista ormai diventata chilometrica. Quasi infinita. È un casino, è un casino, però saranno più contenuti per voi che state guardando questo podcast e state ascoltando questo podcast. Ma poi secondo me, oltre al fatto di parlare di atleti che hanno il talento, che hanno il lavoro, anche dalla tua parte, secondo me comunque c'è una parte di talento, una parte di sensibilità verso le persone con cui lavori, perché ovviamente ogni figura professionale, che sia l'atleta o che sia un preparatore, che sia un architetto, comunque secondo me nasce con determinate caratteristiche. Penso che anche tu all'inizio magari facevi più fatica a comunicare con una persona, capirla subito, capire i suoi bisogni. Assolutamente sì, ma ti dirò André che anche adesso è così, anche quest'anno ho smesso di lavorare con un paio di persone, mi è veramente tanto dispiaciuto, persone valide, bravissime. C'era proprio incompatibilità, c'era qualcosa che non funzionava, non so spiegarti cosa, ma succede. Però è chiaro che la predisposizione per esempio all'ascolto è una secondo me dei talenti che un preparatore non può... Non può non avere. Anche se ci sono, secondo me, delle persone, penso a degli allenatori di calcio, che funzionano anche con altri tipi di leadership, però devi averla molto marcata e molto solida. Innanzitutto devi essere capace. Poi se sei capace, allora puoi anche pensare di importi, ma magari l'imposizione può funzionare con alcune persone e non con altre. Quindi c'è proprio da trovare un'alchimia, una sorta di... Non dico innamoramento, ma proprio un'alchimia tra persone, tra cervelli. Io posso funzionare con una persona e non con altri. Ho un mio collega preparatore, con la quale in realtà ho poco in comune, molto molto bravo a livello scientifico, so che è molto preciso nel lavorare, eccetera. Sicuramente alcune persone che seguo anche io avrebbero bisogno di una figura come lui, quindi io cerco di diventare un po' più numerico, un po' più matematico, un po' più metodico, mi adatto un po', ma non sarà mai proprio il mio. Io preferisco molto di più come fai tu. Secondo me deve essere un po' un mix perché non siamo fatti di... Esatto. Non siamo un computer. Non è che abbiamo un codice HTML scritto in testa. Però se tu pensi a un atleta magari un po' insicuro, che ha bisogno di certezze, perché? Perché ha bisogno di sicurezza e quindi di trovare anche una causa quando magari le cose non vanno bene. Io so che devo fare questo, lo faccio così. Quello ha bisogno di una leadership molto autoritaria e autorevole. Ok. Sì, avere dei punti che riescono a provare il fatto che sta lavorando bene e sta migliorando. Esatto. E avere dei numeri che crescono, dei miglioramenti percentuali che possono... C'è chi vuole vedere i numeri, c'è chi invece si basa molto di più sulle sensazioni. Ovviamente la cosa migliore sarebbe incrociare le due cose, numeri e sensazioni, quando vanno via uguali. Sicuramente sia il massimo del risultato e anche il massimo della self-confidence, no? Cioè tutto intorno a te ti dice che sta andando bene. A volte ci sono persone, per esempio, che non sono molto lungimiranti o guardano solo il breve periodo e lì fai un po' fatica. Sono abituati magari giorno dopo giorno a voler vedere miglioramenti, ma non è così. Bisogna utilizzare un altro tipo di lente di ingrandimento, magari guardare, non so, i dieci giorni, guardare le tre settimane. Però è importante avere dei punti di riferimento che ti fanno capire che le cose stanno andando bene o comunque come vuoi tu. Ok. Ma una cosa che mi sono sempre chiesto, perché non l'ho mai fatto neanche io quando mi allenavo. Secondo te, tipo un atleta di altissimo livello, durante gli anni deve continuare a cambiare il tipo di preparazione o poi arrivi ad un certo punto che trovi il tuo standard, la tua routine e mantieni quella? O secondo te deve esserci sempre qualcosa di nuovo da cambiare, da provare? Guarda, il mio motto è esposto del tuo limite. Secondo me se arrivi a trovare la tua routine e continui con quella routine lì e magari ha funzionato, ad un certo punto o smette di funzionare o succede che la tua prestazione stagna. Succede che… Arrivano gli altri. Arrivano gli altri. A me piace molto la persona che è predisposta a voler osare, a voler provare. Perché quello che penso io è che se copi qualcun altro arrivi sempre secondo. E a me piace vincere. Oppure fare uno o due. Allora cosa succede? Che chiaramente tante volte fai degli errori. Ma fanculo, si può dire. Tutto quello che si vuole. Allora fare degli errori se sono consapevoli e se sono frutto di una scelta che hai fatto, che avrebbe potuto magari secondo la tua idea funzionare, va bene, facciamola. Con curiosità, ammirazione, senso d'avventura e anche, che è la cosa più difficile, l'essere disposti al fallimento. Se tu sei vulnerabile, se tu sei disposto al fallimento, allora sei libero. Se sei libero di fare quello che vuoi, allora è molto facile innovare. Quindi per te deve essere, cioè, al 100% deve esserci una parte di fallimento nel tuo lavoro. Cioè, per forza deve esserci. Sei. È come fare una contrattazione tipo per la compravendita di qualcosa. Cioè, no, è una cosa seria. No, no, sto ascoltando. Se te sei disposto a perdere quella cosa lì, secondo me è il modo giusto di contrattare. Sì, perché sei meno legato emotivamente alla cosa. Se invece te la vuoi per tutti i costi, non avrai mai il prezzo giusto. Vogliamo tirare fuori il discorso paure. Attenzione. È anche il discorso paura. Scusa, l'interpretazione della paura, ci sono paure di diverso tipo, no? Ci sono quelle limitanti, paure invece che sono reali, no? Le paure reali sono ovviamente quando devi fare un drop di 10 metri e ti caghi in mano perché hai paure spaccate. A volte la paura, sono giustificato, quindi la paura ti dice non farlo. Poi ci sono delle paure invece che sono tutte quelle irrazionali, cioè quando hai paura di un qualcosa che lì per lì non esiste, no? Non c'è il pericolo in quel momento. Tipo, non so, sbagliare una gara o… Hai paura in partenza, semplicemente. Hai paura di sbagliare. Perché non sai cosa succederà. Hai paura di fallire. Ok. Se hai paura di fallire, puoi reagire male, nel senso che la paura tendenzialmente ti blocca. È l'emozione più forte che abbiamo. Tra tutte le emozioni la paura è l'unica che può inibirti, proprio per bloccarti completamente. Pensa al terrore, no? Che è la paura portata all'eccesso. Il terrore ti blocca completamente. Non esiste nessun'altra emozione più forte. Se tu riesci a fare un lavoro tale per cui non hai la paura del fallimento, se tu sei disposto a fallire, togli la paura del fallimento. Cosa vuol dire? Vuol dire non aver niente da perdere. Quando non hai niente da perdere non puoi aver paura. Tony Longo, ne parlavamo prima di iniziare a registrare la puntata, l'anno prossimo non correrà più. Questo è l'ultimo anno che farà, ormai è ufficiale, quindi lo posso dire tranquillamente. Qualche settimana fa ha fatto una gara alla 100 km dei Forti. Io ero con lui la sera prima, eravamo a cena. E mi ha comunicato proprio che il giorno, che l'anno dopo avrebbe smesso. Me l'ha detto con una serenità, che in lui non avevo mai visto prima. avrei firmato una carta che il giorno dopo avrebbe vinto. Perché conosco Tony e so che una delle sue, non dico paure, ma lui è sempre un pochino… c'ha quell'ansietta, pregara, tensione, quando sa che sta bene, vuol far bene. Un po' paura di sbagliare qualcosa. Eh sì, esatto. Infatti ha vinto il giorno dopo. Anche prima dell'italiano, ecco perché poi non è da associare la vittoria a questa cosa, perché prima del campionato italiano, domenica scorsa, mi ha detto ma sì dai Simo, ci divertiamo, ormai non c'è più niente da perdere. È stata una cosa bellissima secondo me, una cosa bellissima. Quando uno ti dice non c'è più niente da perdere, domani mi diverto, vuol dire che può anche arrivare quinto, sesto, settimo, ma comunque è il suo. È contento, è libero. Ha fatto quarto, una gara in rimonta, molto bella. Forse qualche piccolo errore nella gestione energetica c'è stato all'inizio, ma poca roba. Ma ha fatto una gara libero. Bello, una bella prestazione. E quindi dici che secondo te per un atleta è meglio avere quella predisposizione mentale o magari c'è qualcuno che invece è sotto pressione in determinate situazioni, magari anche, non so, avendo un po' più di paure, di carica per questo stato, rende meglio. No, non credo che se una persona ha più paura renda meglio. Credo che invece molte persone confondano la paura con l'attivazione, la motivazione. A volte non si riconoscono bene le emozioni. Quell'ansietta, quella attivazione che hai nel pregara, che ti sudano le mani, in positivo. Quella azione che personalmente ho anche io, che ti fa dare qualcosa in più, quella non è paura. Quella si chiama in un altro modo, è attivazione. Carica. Carica, motivazione. La paura è solo limitante. Assolutamente. La sensazione di paura mi è capitata diverse volte, nel senso prima di, magari, situazioni un po' delicate, pioveva, sapevo di non essere in forma, ok? E è totalmente diverso trovarsi lì per partire con la carica di dire, boh, spacco tutto, o invece partire dicendo, cazzo, occhio. Occhio che si scivola. Ed è bruttissimo, secondo me. Cioè, parti con l'ansia e arrivi, che passi la fine e, almeno tutte quelle volte che mi è capitato, alla fine arrivi con quella sensazione che dice, ma che cazzo ho fatto oggi? Però di solito un enduro è più per la prima PS, no? A me capita così. Cioè, di solito parto che sono veramente magari in crisi totale, fai la prima e poi… Soprattutto se la gara la mattina presto. Sì. E poi ti sblocchi. E poi mi sblocco un pochettino. Tu sei andato, Simone, devi chiamare in che… Io ho un problema con la mattina. È un problema. Infatti oggi sono abbastanza silenzioso. L'anno scorso, l'anno scorso alla Tuile è stata imbarazzante. Doveva partire, cos'era la PS alle 8? No, partenza dal palco tipo 8 e 20, 8 e mezzo. Mai successo in vita mia a partire. L'ho visto dopo la prima PS, che cazzo, hai fatto la salita, hai perso. Allora, hai fatto la discesa a fuoco o era come se si fosse appena alzato dal letto? Avevo un occhietto, tutto rilassato. Infatti avevo fatto una marea di errori. Uno schifo di una gara quella. No, comunque quella paura così un po' di fallire mi è successa anche a me. Quando ho cominciato a fare contenuti sui social, che il pubblico è diventato più grande così, perché alla fine avevo cominciato durante il lockdown con te e quindi non c'erano gare, no? Il pubblico è salito, avevo una marea di gente che mi seguiva. Marea, insomma, abbastanza. E la prima gara dopo, cioè al ritorno delle gare, cazzo, avevo un bel po' di strizza. Paura di deludere. Perché ho detto, cazzo, adesso tutti mi seguono, tutti sono lì che aspettano risultati così. E vediamo se sono all'altezza o cosa. E così. Non è stato bellissimo quel momento lì. Poi ci si abitua. Sì, dopo ho detto, avevo. Come tutti, ci sono gare che vanno bene, gare male, relax, cioè, vivitela bene. Ecco, sì, poi una delle cose, diciamo così, dei detti comunque a fuori esame che mi piace di più, che mi è stato detto da un mio allenatore precedente, è stato che o vinci o impari. E alla fine dei conti… Hai sempre imparato a tetanovi? Io posso scrivere un libro, cazzo. Io posso scrivere un libro. Però, obiettivamente, veramente, le cose che impari quando le prendi sono molto più grandi di quando almeno ti va bene. Nel senso, o quando al fine arrivi soddisfatto. Sì, però un po' devi anche vincere, se non è che balle. Sì, però sai, nel senso, quando fai gare d'alto livello, cioè, per esempio, non so, se io e Carmi abbiamo fatto per anni Enduro World Series, io non mi sono mai sentito all'altezza di poter vincere una tappa di Enduro World Series. Però, sai, ci sono stati dei giorni in cui ho fatto delle buone prestazioni e sono arrivato alla fine, non dico come mi sentissi come se avessi vinto, però super soddisfatto del risultato, sentito di aver dato il massimo e alla fine di quei giorni lì ho imparato molto meno rispetto a giorni invece in cui sono andato più in difficoltà, ho fatto più errori, mi sono preparato male, ho messo le gomme sbagliate, non ho controllato la pressione. Male, male, eccetera. Strano che poi lui controlla sempre tutto, dieci volte. No, però nel senso, quelle cose là mi hanno fatto crescere molto di più che invece le buone giornate. No, quello sì, però, tipo, anche io quando correvo su strada, cioè, se non avessi avuto, non il talento, mi sarei un po' esagerato, però se non avessi avuto di buoni numeri per comunque, nonostante l'allenamento. Non lo sa, nonostante l'allenamento non top per arrivare lì davanti, perché alla fine, cioè, arrivare nei dieci arrivava abbastanza easy alla fine. Non so se avrei corso così tanti anni su strada. Nel senso, bello, tutto quello che vuoi, però, cioè, quando vedevo i miei compagni che si facevano un mazzo tanto e poi si ritiravano dopo 50 chilometri, però si allenavano il doppio di me e si facevano il culo quadrato tutti i giorni, cioè, io se ho stato in loro e vi ho detto, ma chi me lo fa fare? Cioè, poi c'è la passione e tutto, eh, quello non lo discuto. È personale la cosa. Però se sei comunque agonista, cioè, se sei un atleta, secondo me l'atleta parte dalla base che lo stai facendo per raggiungere un risultato, che è battere gli altri. Beh, quello è agonismo. Chiaro che serve il rinforzo, no? Alcune persone serve di più e altre meno, altrimenti non giustificato il fatto che tu avevi compagni come li avevo io, come tutti gli altri che arrivano sempre dopo metà classifica eppure sono lì. Quindi ognuno ha il ritorno che è sufficiente per la spinta motivazionale per continuare ad andare avanti. Probabilmente nel tuo caso, come anche nel mio, ho corso anch'io fino a 18 anni, io ero molto motivato dal risultato. Mi allenavo e correvo per quello. Infatti a me non piaceva allenarmi, mi piaceva fare le gare. E anche io uguale. Perché vincevo. Vincevo, arrivavo secondo, terzo, però quella crea grossi problemi. Crea grossi problemi perché innanzitutto se arrivi quarto, che sei giù dal podio, hai fallito. Invece c'è gente che, come dici tu, se allena il doppio arriva dopo metà gruppo e te ti senti fallito. E la gente che ti guarda, a volte mi è capitato anche mio papà, mi dicesse, ma oh, quando sono arrivato secondo... Prendi e porta a casa. Quando sono arrivato secondo al campionato italiano, ho pianto dopo l'arrivo, dal nervoso. In quel momento non mi rendevo conto che avevo fatto un risultato alla Madonna. Ero secondo, no, primo. Questo un po' è l'agonista che vuole vincere, chiaramente. È un po' perché lo fai per il risultato, ma ci sta, ci sta. Secondo me un atleta deve, ovviamente, proprio quando sei là davanti, avere la fame di voler arrivare uno, per forza. Cioè, no, è inutile farlo, nel senso... Inutile non lo so, perché sto cambiando idea su questa cosa, ma sicuramente... Importante, sì. No, io dissento su questa cosa qua. Davvero? Secondo me, quando sei 20 anni che sei lì, che devi fare, devi averla... Anch'io è solo cambiata. Tipo, lo vedo anche nel mio lavoro. Cioè, una volta, magari stavo... Una volta. Non è che sono passate una vita. Quando ho aperto il canale, stavo lì a guardare anche cosa facevano gli altri, guardavo i numeri degli altri, prendevo spunto, così. Adesso, sinceramente, non dico che non me ne frega più niente, comunque vado molto più zen, molto più sciallo, e so che sto facendo il mio lavoro, e se sono contento del mio lavoro, sono contento, appunto. Non è che se uno fa più visual di me, allora sono geloso. Questo è anche frutto della sicurezza che hai acquisito, però. Anche sì, è vero. Se tu sei sicuro di quello che fai, ti piace quello che fai, i tuoi punti di forza sono solidi, è più facile andare per la tua strada. Se continuo a guardare gli altri, spesso è in sicurezza. Come anche io guardavo una volta, adesso non guardo più niente, vado per la mia strada, perché mi sta bene quello che faccio, e mi piace, vado bene così. No, no, per questo che diciamo così prima, ti ho detto che non sono d'accordo su quello che hai detto, per il fatto che per me non era tanto importante il risultato rispetto agli altri, cioè arrivare primo e mettere gli altri dietro, era più che altro, non so, è sempre stato almeno. Perché volevi imparare di più? No, sì, quello, ma poi anche mettermi, cioè io in gioco, cioè fare un test più che altro su di me, ok, cosa riesco a fare? Riesco a beccarle, cioè riesco a fare questo tipo di percorso, riesco a fare un certo tipo di gara, riesco a arrivare a questo tipo di risultato. Dopo che ne mettersi dietro di più o di meno, chiaro che fossero stati di più, sarebbe stato meglio, ma... Però stai dicendo la stessa cosa, nel senso che anche tu avevi un obiettivo di risultato. Sì, quello sì, però nel senso non mi sono mai preoccupato del fatto che devo mettere dietro gli altri, cioè volevo più che altro migliorare, è stata sempre una gara contro me stesso rispetto a una gara contro gli altri, quindi alla fine... Però anche se ne metto il paragone degli altri, che ti livella e ti fa capire dove andare poi a migliorare, dove sei, però effettivamente c'è la cosa che tu dici... È una conseguenza quasi. Esatto. Ma secondo te invece, un atleta che è lì, tornando al discorso di quelli che vanno e si fanno il mazzo, però non arrivano mai davanti, cioè mentalmente uno che tipo va in coppa e va a correre contro un shooter, un luca braido, un luca o tutti quelli lì, cioè mentalmente che vogliai di andare a farti un'ora e mezza a fuoco e arrivi sessantesimo, cinquantesimo, perché su strada secondo me è molto più easy, perché alla fine è uno sport di squadra, quindi lavori per un obiettivo comune, porti a casa anche il risultato, e anche della pecunia, visto che se il tuo compagno vince il giro, il tour o una gara importante, porti a casa in saccoccia un po' di cose. Secondo te mentalmente, cioè secondo me ogni volta che vado in coppa a vedere il cross country, insomma questi poveri crisi che sono dietro, che si mangiano la polvere tutto il giorno, e non arriveranno mai. Ma come ha detto lui, per qualcuno magari il risultato è arrivare nei 30, la vittoria è lì, oppure semplicemente riuscire a fare quello che vogliono fare. Semplicemente correre in coppa. Come dire io che vado all'EWS, non è che vado per vincere l'EWS. Vuoi andare ancora a correre l'EWS? Ah, un paio, sì dai. Però l'obiettivo non è vincere, ma fino a un paio di anni fa, per me arrivare nei 30 era tipo obiettivo top della stagione. Erwin, hai mai pensato che cosa dovrei fare io per vincere un EWS? Che cosa potrei fare io? Mi arrivano cattivi pensieri. Che arrivano cattivi pensieri. E quindi dopo mi girano un po' le palle. Ma hai mai provato a immaginare come dovrebbe essere il prossimo futuro, il prossimo anno, se tu volessi puntare a vincere un EWS? Vincere, no secondo. Adesso vedi che prende e si alza. E non può perché la moto l'ha presa a piano. Non può andare via. No, io ci ho pensato, cioè fino a un anno fa, due, mio obiettivo ovviamente era arrivare ai massimi livelli, quindi ovviamente si cercava di guardare i primi, cosa facevano, e capire che differenza c'era tra il primo e noi. Dico noi perché eravamo magari vari compagni di squadra di cui parlavamo, tra cui sempre Nicola che saluto, con cui avevamo un gran dialogo e insomma a ogni gara ci mettevamo lì tipo un'oretta e pensavamo ai nostri punti deboli, cosa abbiamo sbagliato, cosa no, eccetera, eccetera. Ci sono delle cose secondo me che non sono raggiungibili. Da tutti. Da tutti. Tra cui me. Non creo di essere in grado di riuscire a arrivare uno alle EWS. Sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto fisico, sia per altri aspetti. Quindi tu conosci i tuoi limiti, cioè secondo te tu hai una linea, qua io potrei arrivarci, ma oltre questo è il mio limite. Può essere anche una consapevolezza, certo. Mi chiedevo solo se proprio hai mai provato a immaginarti come se non ci fossero quei limiti lì. Ma intendi per il lavoro che dovrei fare per arrivare lì? Per esempio sì, anche questo. Alzarti presto la mattina. No, ci ho pensato benissimo. Il problema è che sono arrivato a un certo momento in cui avevo le idee ben chiare di quello che dovevo fare, ma non avevo le possibilità di farlo. Ok. Esempio, possibilità economica, sponsor, eccetera, per poter dire io il prossimo anno penso solo ad allenarmi, a spostarmi d'inverno, andare in un posto caldo, fare determinati sentieri, a non pensare a niente tranne allenarsi, curare la tecnica, magari fare dei camp con qualcuno di forte forte per migliorare ancora di più. cioè, il percorso non è che sia segreto, cioè c'è quello da fare. Il problema è che per farlo è un po' tipo il cane che si morde la coda, non ne parlavamo anche nelle altre puntate. Se non sei forte, non hai gli sponsor, non hai l'aiuto e quindi non puoi dedicare il 100% del tuo tempo a diventare forte e quindi... Certo. o hai qualcuno che ti aiuta all'inizio un bel po', proprio un bel po', tra cui la famiglia che mi ha autato un sacco, però da lì a fare il salto ancora di più... Boh, sì, se ne vogliamo farlo. Sì, diciamo che però in realtà non è solo colpa delle possibilità economiche, è anche una predisposizione. Ma un mix di tutto, secondo me. Sì, secondo me anche il fatto che arrivi a un certo punto che ti rendi conto, almeno questo è stato anche per me, a un certo punto mi sono reso conto che forse potevo fare qualcosa di più, ma avevo tipo del, diciamo così, rispetto ai più forti, avevo delle lacune su alcune cose che mi sarebbe costato veramente anni o comunque un certo tipo di percorso per andarle a colmare. Lacune tecniche? Sì, lacune sia tecniche, ma anche mentali, ma anche fisiche. Alcune fisiche, secondo me, sono, come detto te, cioè nel senso... Sei così, sei così, punto. Sei così, e io per quanto ci provassi, non so se sarei mai riuscito a... E la componente fisica, per quanto riguarda l'enduro, è una delle parti, diciamo così, fondamentali, nel senso, per esempio, uno stage di, anche se fosse 5 minuti, ma 7 minuti, 10 minuti, eccetera, e, ragazzi, c'è poco da avere tanta tecnica a un certo punto. Per esempio, quando ti fai, non so, una top of the world, che sono 18 minuti di discesa, e questi qua se la giocano per 3, barra 4, 2, 1 secondo, beh, si dà che dici, cavolo. Ma che cazzo! E te ne prendi magari 40 secondi. Eh, dici 40, se ho sbagliato quella curva, se ho sbagliato pure quell'altra, cazzo lì, potevo un attimino... Però, alla fine dei conti, c'è proprio che io sono arrivato alla fine in cui non tenevo più il manubrio e non è che non avessi fatto le discese lunghe per allenarmi, non avessi fatto d'inverno le furgonate per, diciamo così, incominciare a predispormi su quel discorso lì. Oltretutto, parte della preparazione, non la fai da solo, la fai anche con altri rider, e altri rider che vanno molto più forti di te, proprio perché cerchi di imparare, di guardare, eccetera. E parlando, alla fine dei conti, capisci che in realtà tutti, bene o male, di riff o di raffa, fanno sempre le stesse cose. Esiste nell'enduro, là davanti, diciamo nei top 5, chi è là per talento tecnico, chi invece lavora molto, molto più degli altri ed è allo stesso livello? Un po' come il Messi del calcio e il Cristiano Ronaldo? Ne stavo parlando con un tipo con cui ho fatto la gara insieme a Canazzei, che è francese. E basta guardare Briceland e Minnar? Sì, uno o loro, ma un altro per dire, cioè nel mondo enduro, Florian Nicolai, mi ha detto questo qui, francese, che lui non si allena a zero, ha cominciato ad allenarsi, penso un anno o due fa, e fino adesso non si è mai allenato niente, ma tipo faceva il girettino tranquillo un giro lì vicino casa, poi andava alle gare, bastonava tutti, e quindi questo rider è diventato un po' super antipatico a tutta la zona del sud della Francia, ma anche non solo, anche tutti i francesi, perché andava alle Coppe de France, il campionato francese, e bastonava tutti senza fare un cazzo, dove c'erano tutti gli altri che si facevano il culo. E quindi questa roba qui non lo sapevo, però me l'ha spiegata lui, che veramente lui è veramente, c'è guida da paura, e ha sempre guidato da paura, si allena poco, forse c'ha già un po' di motore di su, sicuramente c'ha un bel po' di motore di su, se no non arrivi lì davanti, però lui così. Bisognerà capire Arvin come è cresciuto, che cosa ha fatto, che ne sai, magari fino a tre anni, prima andava con la rigidina giù dalle montagne per divertirsi, cioè nel senso, oppure faceva, eh, capito, magari da ragazzo, non so, correva su strada, quindi veniva già con il motore, bello pompato. Perché secondo te, riconoscere i propri limiti è sbagliato, o secondo te è soltanto il fatto che tu, a un certo punto riconosci, un tuo limite, ma in realtà, fisicamente, mentalmente, tecnicamente, sei molto più predisposto di quello che tu pensi? Hai mai sentito che, sono state fatte un sacco di scoperte nella storia, semplicemente perché uno non conosceva la materia, nel senso che a volte l'ignoranza ti porta a fare cose che non avresti mai fatto, perché magari ne conoscevi i limiti. Conoscere i propri limiti è importante riconoscerli perché così sai come poter fare a superarli. però è molto importante anche giocare con l'immaginazione e provare a fare quello che si dice buttare il cuore oltre l'ostacolo. Cioè se vuoi veramente arrivare là è importante anche saper immaginare cosa potrebbe essere se, cosa potrebbe succedere se, cosa potrei fare se, giocando. perché quando tu immagini una cosa, così era, se non sbaglio, non so se vuoi dire una cazzata, ma era Walt Disney che diceva se una cosa non la puoi immaginare, o se una cosa la puoi immaginare la puoi anche fare, o viceversa. Se non riesci ad immaginarla non puoi farla. Tante volte è importantissimo appunto immaginarsi già arrivati e magari voltarsi indietro a vedere il percorso che si è fatto per arrivare lì. Altrimenti crei una struttura che è autolimitante. A me tantissime frasi che sento nel mondo del ciclismo non mi piacciono. Per esempio si dice spesso, eh questo è il mio valore, io so che posso arrivare qua. Allora se è così perde il senso di tutto, nel senso... Dov'è la sfida? Dov'è la sfida? Dov'è il lavoro? Devi lavorare per arrivare sempre solo qua. No. Esiste la possibilità di fare, altrimenti non... Chi l'avrebbe detto probabilmente dieci anni fa che ci sarebbero stati dei corridori che avrebbero vinto le Olimpiadi, avrebbero vinto una tappa al Tour de France, avrebbero vinto la Coppa del Mondo del ciclo cross. C'era la specializzazione. E la cross country. Guarda Pitcock. No, siamo proprio i Pitcock. In realtà nessun altro ha fatto questo. Sì, però pensi anche Van Der Poel che comunque è un crossista, poi è andato a fare strada, gare su strada. Si dice, si vocifera che Matthew Van Der Poel voglia, o comunque abbia espresso il desiderio di fare anche una gara di enduro o di discesa. Davvero? Sì, sì. Perché no? Non mi stupirei, anzi. Bene. L'importante è che lo avvisano sulle passerelle e poi c'è posto. Poverino. Poverino. Come sapeva che avevano tolto la passerella. Cazzo, poverino sì. Sì, però è anche secca. E vabbè, capita. Capita. Che dopo tu arrivano in piede e non sai come è il percorso. sei un campione. Però lui è sempre stato comunque in tutte le caro. Ecco, per esempio, sul discorso che facevi prima dell'atleta che ero in partenza, un po' sudato, sotto pressione, battiti, eccetera. Una mia immagine è di lui che arriva alla gara di cross country. Che non si scalda. Non si scalda. E si è senza riappoggiato. Guarda gli altri, parte, prima curva a fuoco davanti. Là non capisci com'è possibile che è un atleta del genere. Il beatco è uguale. Nove mestri ero là. Io ero là, cioè, non ha fatto riscaldamento. Era là sotto lo sombrellino e gli altri a fuoco sui rulli. Parte che riscaldamento non serve. Quasi a niente. Davvero? Io l'ho sempre detto questo. Serve a qualcuno, a pochi, più dal punto di vista mentale che fisico. Ah sì? Serve veramente poco. Il riscaldamento classico, come lo intendiamo noi. Cioè, tipo rulli? Tipo attivazione fisica? Dipende dalla gara, però sicuramente il predisporsi, come dicevamo un po' all'inizio, al cancelletto di partenza con la massima attivazione, predispose a una serie di cose, tra le quali magari anche andare in bici, ma non è detto. A livello muscolare dici che non c'è questa... Non per tutti. No, no, non per tutti. Ci pensi quando... Cioè, gli animali quando scappano, non è che prima si scaldano, prima di scappare dalla pedra. Scappano e basta. Scappano. Perle. Questa qua è bellissima. È vero? Bellissima questa. Non mi ricordo più cosa vuol dire, ma riguardo a Van der Poel e al fatto che lo vedevi che non si scaldava. Van der Poel, secondo me, ha anche questi atteggiamenti un po' figli della sua sicurezza, estrema sicurezza. Dei suoi punti di forza. Tanto è vero che l'ha portato a fare parecchi errori. Mi ricordo un mondiale dove è andato in crisi di fame prima dell'arrivo. Ah certo, sì, che era davanti prima. Basta. Ha spento la luce. Ha fatto tanti errori di Van der Poel. Ma anche il tour… No, al giro, al giro, al giro. Al giro uguale. Ha fatto anche… C'è un po' di cose tipo in fuga che dicevano, questo va a vincere sicuro. Sì, poi crisi. Luce spenta. Sì. Freccia. C'è. Andate, andate. Il biglietto che aveva, cos'era, la Paris-Giroubaix? Sì, o Fiandre, non ricordo. Famosa fotografia dove aveva un biglietto sulla pipa con chilometri e quanto doveva bere. Anch'io l'avrei fatto. Perché bisogna proprio dirgli cosa fare, secondo me, a lui, perché sennò si dimentica. Potrebbe essere per estrema sicurezza, potrebbe essere perché è talmente concentrato dalla cosa, potrebbe essere perché non è lungimirante e quindi dice, no, adesso sto bene, non devo mangiare. Non lo so, questo non lo so. Però sta di fatto che ha fatto molti errori. Ha vinto tanto, ma tante ne ha perse. Pazzesco che un atleta di quel livello si dimentichi questa cosa, che in realtà è, diciamo così, una delle prime cose che almeno io sono andato a lavorare, sull'alimentazione, su come gestirmi, diciamo così, il bere, come integrarmi, eccetera, no? Dimentica. Ah, guarda, bevo dopo. Eh, ma tanto c'è il ristoro all'arrivo, devo, bevo lì. È un po' così, è un po' così. E quindi secondo te, visto che parlavi di limiti, Simo, quant'è che può un atleta, secondo te, ai massimi livelli dare oltre alla propria prestazione fisica oggettiva? Quanto può andare oltre per una situazione magari particolare, dire, con la testa? Allora, a livello scientifico, noi quando esprimiamo il massimo della nostra potenza, proprio il massimo, il massimo, il massimo, il massimo, siamo circa al 70% di quello che realmente potrebbero fare i nostri muscoli. Questo è scientifico. Il meccanismo del dolore è un meccanismo naturale che ci evita di crepare. Perché se arriviamo al 100% ci potrebbe essere… Scoppia il cuore, scoppia il muro, non lo so. Il 100% è proprio il limite che… Sì, scoppia, si rompono i muscoli, non lo so che cosa può succedere. Probabilmente si rompono tutte le strutture. Spacchi su tutto. Esatto, se tu non avessi il dolore, probabilmente… Ingroppi. Questo ulteriore 30% è raggiungibile… 30, eh, tanto. Madonna, anche solo il 2% di più di fa vincere un tour o un giro. Esattamente. Questo 30% è raggiungibile in alcune situazioni dove è possibile disattivare questa protezione del cervello. Queste situazioni sono in pericolo di morte, tipicamente. Sì, quando ci sono quelle storie di gente che fa cose assurde perché sta per morire o… L'adrenalina, magari. Sì, non so dirti se è una questione ormonale, quindi se è veramente l'adrenalina o… Non so perché. Però sì, in situazioni in pericolo di morte è successo qualche piccolo evento anche a me. Non pericolo di morte, ma comunque sai quando magari i tuoi figli sono repentagli o succede qualcosa. Così ci metti veramente un anno al secondo a dare quello che non hai. Lì è possibile. Quindi immagino che magari… Voglio pensarlo, mi piace pensarlo, con un buon lavoro di mental coaching, con un buon lavoro chiaramente inconscio, nel senso che qualcosa che ha a che fare con l'inconscio. Tu non puoi razionalmente decidere di andare quel 5% in più rispetto a quello che hai. Non sentire il dolore. No, non puoi. Però a livello inconscio, con un lavoro con tecniche, pura tecnica, ipnosi, queste cose qui, credo che sia possibile raggiungere un livello più alto. A volte lo si fa in automatico quando sei particolarmente motivato e tu pensa al fatto che quando ci sono i campionati italiani, quando ci sono i mondiali, tutti vanno più forte. Cioè, non è che tutti… Ok, è vero che si prepara quell'appuntamento lì. In particolare. In particolare. Ma non è solo quello. È proprio che c'è una profonda motivazione in tutti. La maglia tricolore, la maglia di campione europeo, la maglia di campione mondiale, qualcosa che ti dà qualcosa in più. Magari un 30% no, però tutti mediamente quelli che vogliono vincere, uno o due per cento in più, lo tirano fuori. Anzi, è proprio una delle qualità dei vincenti questa. Esatto. Domenica, il campione italiano Marathon, chi ha fatto secondo e terzo, non aveva mai fatto un po' di oprima. La mia interpretazione è stata che, a parte che hanno gestito molto bene la gara, ma quando sono stati a metà gara, si sono visti appunto in seconda e in terza posizione. Secondo me, in quell'occasione tutti e due, infatti poi dichiaratamente, sono riusciti a dare qualcosa in più. E hanno fatto secondo e terzo, sì. Non c'erano mai arrivati neanche lì vicini. Ma sicuramente, quando vedi che puoi fare certe cose, poi alla fine mentalmente ti sblocchi, no? Sì, a volte basta un solo risultato. Infatti quando tu parlavi prima mi dicevi, non ricordo chi parlava, mi era venuta in mente questa cosa qua. Il fatto di fare un risultato anche solo una volta, superiore a quello che era la tua aspettativa. Tipo Luca in Coppa? Bravo. Probabilmente lui la sognava, ma chi lo sa, mi piacerebbe chiederglielo se davvero avrebbe pensato di poter vincere, di battere Nino. Il fatto che tu l'abbia fatto una volta, animal is kind of animal, cioè che è successo una volta, solo è come se non fosse mai successo, ma se lo fai due volte, se il tuo fisico l'ha fatto due volte, quella cosa lì vuol dire che puoi farlo. Ce l'hai? Sì, non è solo il caso, la fortuna. È la riprova che ce l'avevi. Ah, sì. Queste cose qua sono... Eh... Sono anche profonde. Vabbè, è vero. No, è vero, è vero. Sì, sì, però è sempre molto interessante vedere questi aspetti dell'andare oltre, fare qualcosa in più, che secondo me sono... Secondo me da fuori, chi non ha mai fatto agonismo, chi non ha mai fatto gare, così, a volte non è così percepibile. Difficile, secondo me. Cioè, anche rendersi conto dello stato mentale in cui si è quando... si è una gara, ci si sta giocando il tutto per tutto. Ovvio. Gli atleti hanno qualcosa in più, secondo me. Anche nel mondo del lavoro. Ecco. Cioè, della società in generale. Io vedo che chi è stato atleta e ha fatto... c'è atleta ad altri livelli, così, ha quel... Ha un altro modo di pensare, di approcciare le cose. No, più che altro ha la possibilità di, magari in un determinato periodo di tempo, di dare il 130%, dove gli altri magari... Mi fermo all'80. Invece, non so, esempio, non so se dobbiamo fare un progetto come è stato anche in passato con dei brand. Non so, abbiamo fatto quattro giorni dove abbiamo dormito cinque, sei ore a notte neanche. Stavamo in bici. Magari. Sì, esatto. Stavamo in bici, dodici, montavamo il video di notte, robe così. Viene a pensare tante altre persone che conosco non l'avrebbero mai fatto. Se l'avrebbero detto proprio così, metto un cartello gigante così, col cazzo. Per noi invece è stato... È vero, eh? È stato tipo, come posso dire, challenging. Sì, davvero, è una sfida, è una cosa da portare a termine. Adesso mi vedo molto più competitivo, molto più lottatore per quello che sto facendo adesso rispetto alla mia carriera d'atleta. Mi piace andare in bici, bello, le gare, le ricordo bene. È stato bellissimo correre, essere lì davanti, cioè comunque avere un buon motore, però mi vedo molto più competitivo adesso rispetto alla carriera d'atleta. Ragazzi, il parallelismo tra imprenditoria e sport è una cosa vecchia, nel senso che quante volte nei corsi di coaching le dinamiche aziendali vengono invitati degli sportivi a parlare, perché l'imprenditore parla la stessa lingua. E comunque lo sportivo, i racconti dello sportivo sono altamente similari a quelli dell'imprenditoria. Sì, sacrifici, essere on focus sull'obiettivo. Obiettivo, esatto. Ecco la cosa che secondo me su questo discorso qui l'atleta fa la differenza è comunque la visione a lungo termine. Cioè, un atleta incomincia, non so, per esempio nel ciclismo, incomincia ad allenarsi a novembre, dicembre, per avere poi il massimo della forma come so, a luglio. Cioè, sono comunque mesi in cui tu fai il tuo percorso, mangi, ti alimenti in un certo maniera. No, ha bisogno di anni magari. volevo dire i mesi, perché quando cominci a torri a 25 anni il tuo sogno è diventare professionista, forse, dopo 15 anni è un'altra roba. chiaro, chiaro, no, nel senso, vabbè, è chiaro la visione di anni, però anche all'interno di una stagione stessa, da quando incominci a lavorare, cioè tu sai benissimo che dal primo giorno in cui incominci ad allenarti il risultato di quello che farai lo vedi proprio mesi, mesi dopo, sì assolutamente, perché c'è un piano d'azione, quindi ti abitui anche mentalmente a creare un percorso da qui a là, a creare delle fasi, a creare degli alleati intorno a te, a creare dei punti di riferimento lungo il percorso, devo andare sull'Everest, ok, prima devo prendere l'aereo, andare in Nepal, andare in Nepal, quindi c'è una visione in questo senso, un'abitudine anche a pianificare. ti crei dei punti di passaggio durante il percorso. Non c'era una domanda sull'imprenditoria, Erwin, di solito? No, li volevo chiedere, visto che allena un ragazzo che fa sia l'Atleta Pro che dei contenuti sui social, come gestivate la questione percentuale di tempo dedicata a una all'altra, periodi di stop, anche a livello mentale soprattutto se il ragazzo riesce a gestire le due cose bene o se è un problema, non so. Ok. Sì, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro lavoro insieme e ogni tanto tiriamo fuori l'argomento perché secondo me è molto importante per un aspetto soprattutto di attenzione a quello che fai. Per avere la qualità massima in quello che fai devi portare l'attenzione solo a quella cosa lì. Questo è fondamentale. Non vuol dire necessariamente fare o l'Atleta o lo YouTuber. Vuol dire però che quando fai l'Atleta devi fare solo l'Atleta e quando fai lo YouTuber devi fare solo lo YouTuber. Non puoi fare un allenamento di qualità mentre fai il video perché il cervello non è più attento a una cosa sola ma è attento a due cose quindi è 50 e 50. Il multitasking nella prestazione non va bene. Quindi quello che ho suggerito di fare è quello di fare una programmazione anche dei video su YouTube in base alla stagione, alla stagionalità. lui ha più o meno una lista di argomenti di video che vorrebbe fare e il mio consiglio è stato quello di prepararsi dei video in anticipo da poter buttare fuori non so adesso non ricordo quanto pubblica lui mettiamo una volta al mese ma pubblica di più se tu ti prepari 15 video in un anno magari 15 non tanti però 5 video pronti da buttare fuori quando poi non potrai in quel periodo in cui magari hai più gare o più questo può essere un'assoluzione era un'idea che gli avevo dato io certo è che uno youtuber bravo secondo me è anche uno youtuber che ti porta davvero porta i follower con lui quindi capisco infatti la mia domanda sarebbe stata quella cioè il problema è che essendo un atleta la gente lo segue perché un atleta vuole vedere cosa fa l'atleta alle gare cosa fa nei allenamenti quindi come c'è una soluzione a questo secondo te come io per esempio faccio i vlog durante le gare sì però la tua scelta è stata molto chiara io me la ricordo me l'hai detto la tua scelta è stata chiara nel senso che tu hai un ritorno da parte di youtube tale per cui nella tua lista degli obiettivi probabilmente è più importante ad oggi rispetto al risultato della gara lui non è ancora a quel punto lì è al contrario attualmente potrebbe essere secondo me uno dei futuri possibili per un atleta magari hai meno voglia oppure magari ti rendi conto che effettivamente i risultati che potevi fare li hai fatti potrebbe essere che gli ultimi anni di carriera gli ultimi due o tre anni decidi di fare un passaggio e dedicarti molto di più a portare la gente all'interno delle competizioni e allora va bene è un altro discorso non puoi più pretendere il top del risultato ma secondo te neanche nell'enduro in cui per esempio io parlo durante i trasferimenti durante i momenti morti diciamo mentre durante la PS io accendo la GoPro tipo anzi negli ultimi mesi qui le ultime gare che ho fatto le accendo molto molto prima tipo tre minuti prima di partire così proprio non ci penso poi mi concentro parto faccio la mia PS come se la GoPro non ci fosse e poi fine PS spengo insomma spengo riaccendo e faccio male il commento della discesa così però è una parte in cui non serve che sia super concentrato secondo te perdo comunque come posso dire potenziale qualche secondo per strada esatto c'è perdo qualcosa per strada sì assolutamente io credo di sì ma dici che magari non potrebbe essere invece un modo per una persona che si abitua a fare questa cosa per magari sfogarsi magari in una tabella di una PS ne parli se ne parli la GoPro come se fosse tipo il tuo ho capito cosa intendi la tua valvola di sfogo ti calmi perché hai raccontato com'è andata magari ti carichi anche perché sai che non so dici adesso andiamo a fare la seconda che mi piace un botto mentalmente magari ti scarica un attimo così poi sei più pronto mi viene un po' difficile da credere perché mi sembra strano che tutte le volte ti sfoghi sempre con la GoPro metodicamente e in maniera sensata perché dici che c'è sempre un po' di cioè ci sono sempre dei filtri non puoi essere al 100% secondo me sì una riga di beep verrebbe ogni tanto sì anche perché io non conosco molto la disciplina dell'enduro anche se mi affascina parecchio però io immagino che tra una PS e l'altra ci sia un momento di stacco di pedalata di rilassamento nella quale mentalmente magari chiudi diciamo la PS precedente e apri la PS successiva fisicamente l'obiettivo è quello anche di recuperare molto bene il più possibile di arrivare sempre più fresco all'inizio della successiva quindi non è vero che tra una PS e l'altra non ci sono obiettivi l'obiettivo di recuperare bene l'obiettivo di pulire la testa dagli errori che hai fatto l'obiettivo di cominciare a ripassare la PS successiva è un obiettivo la mia esperienza è che prima le gare erano già impegnative a livello di concentrazione perché poi una gara di enduro che magari dura anche più giorni perché ci sono le prove magari anche due giorni di prova e due giorni di gara cioè fai un weekend che arrivi alla fine che sei distrutto mentalmente perché devi pensare alla bici che deve essere a posto poi anche lì se sei un atleta pro 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 in un team ufficiale è un altro discorso perché c'hai meccanici messaggiatori gente che ti cucina ti fa tutto tipo io mi arrangio a fare tutto quindi di stare dietro la bici cucinare prenotare location cioè c'è un botto di lavoro in più a fare la gara e in più c'hai il video quindi mi devo preparare le batterie cariche della gopro cambiare le batterie magari dopo 2ps perché so che poi non mi basta più e far partire la gopro cioè ci sono tanti passaggi io arrivo la domenica sera che sono cotto marcio ma c'è più mentalmente che fisicamente perché devo pensare a 100.000 cose quello è faticoso assolutamente è faticoso però nel tuo caso sicuramente io penso che ne valga la pena più che altro secondo me ne vale la pena perché mi piace farlo assolutamente è quella la questione ho parlato con tanti altri atleti che dicono eh cazzo non che a me piacerebbe perché agli sponsor interessa e così ma gli ho detto ma sei sicuro? cioè ti piace montare video? ti piace condividere la tua vita? ti piace passare il 50% in bici e il 50% adesso anche il 30% in bici e il 70% magari al pc o sul telefono mandare email e cose abbiamo parlato con un mio amico a pezzo nella penultima gara e lui adesso lavora mi sembra part time in un negozio fa un po' il meccanico un po' vende così e poi un po' si allena e va in bici e ho detto cazzo se riuscissi anch'io a iniziare a fare contenuti così potrei sostituire il lavoro da tipo da meccanico con quello da youtuber eccetera e tu gli hai detto quello che non è part time e gli ho detto prima non è part time secondo vecchio assa sta stai tranquillo no gli ho detto gli ho fatto lo stesso discorso gli ho detto pensaci bene se ti diverte proprio cioè se ce l'hai dentro sta roba che vuoi comunicare che vuoi fare contenuti ti piace ah perché poi c'è tutta la parte tecnica proprio di editing di carica su youtube cioè non è una cagata gestire le camere fare foto cioè è come fare dieci lavori in uno e se sei appassionato li fai proprio stra easy e e li fai bene e se no anche se lo metterti a imparare ti ci vogliono degli anni per capire tutto secondo me sì poi magari è una cosa che se la fai al 50-60% ti può aiutare un pochino a livello economico proprio parlo puramente ma io credo che non sia così roseo anche lì per arrivare al livello in cui diventa un lavoro ecco non è che non è così roseo in due mesi lo fai ci vogliono magari anni fare il vostro lavoro secondo me per come la vedo io da fuori poi voi mi smentirete vuol dire scegliere un altro tipo di lavoro e a lavorare se va bene almeno un anno gratis solo per imparare concordo minimo minimo sì sì no no concordo sì sì ho fatto un primo anno tu dici io faccio un lavoro e lo faccio gratis per un anno sbagliando andando male poi forse se sono stato bravo e lo capisci dopo un anno se le cose vanno bene o no sì 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 se va benissimo che dici magari continui altrimenti hai buttato via un anno ma hai buttato via no perché hai imparato qualcosa ma sicuramente anche questa è una parabola dell'attreta secondo me infatti per me non ha pesato molto perché ci sono anni e anni in cui non fai un cazzo i risultati sì dopo il mondo web magari tiri fuori quel video dal niente è vero fa molto di visual certo perché non dipende da te però non dipende da te no dipende perché il contenuto se non è valido non funziona non esiste quella cosa che a caso funzionano i contenuti però secondo me sì in parte non dipende da te però se ci vuoi lavorare non è quel video che ti cambia la vita zero la costa perché poi secondo me tanta gente non capisce che secondo me per noi che siamo abituati ad andare in bici doversi allenare sempre essere sempre sul pezzo non mollare mai non aver pause è molto simile all'allenamento in bici o all'allenamento in generale dell'atleta tanta gente che vuole secondo me cominciare a fare questo lavoro non capisce che è esattamente la stessa cosa cioè non puoi fare un video devi continuare tutti i giorni migliorare costanza e non mollare non avere non avere le fisime di dire no non pubblico questo video perché secondo me non è il 100% di quello che posso fare cioè lo devi comunque pubblicare secondo me e quello dopo sarà meglio sicuramente sarà migliore è come dire che uno non va a fare una gara perché non si sente al 100% in forma e va a fare solo al mondiale perché è l'obiettivo finale devi farle tutte le gare poi c'è un altro aspetto secondo me delle youtuber che devi avere qualcosa da dire cioè non basta fare video devi avere qualcosa da dire infatti secondo me lui aveva strano ragione quando ha detto al suo amico devi proprio sentirtelo eh sì cioè se non te lo senti lascia stare perché è inutile farlo così a caso per accendere la telecamera e filmare due cose no può funzionare inizi due giri in bici magari qualche visual la fai però se vuoi fare il professionista devi avere a parte una certa personalità ma soprattutto contenuto se devi avere qualcosa da dire può essere giornalismo può essere reportage può essere quello che vuoi ma deve avere un senso può essere può far divertire può anche far divertire è vero eh o fai informazione o divertimento sono tre cose o anche tutto insieme sì oppure insieme esatto un bel mix esatto esatto come tipo fusion vai vai Tobi e te invece per la tua per quello che fai ti è mai venuto in mente di fare contenuti o comunque non so se mi hai parlato che hai comunque fatto un podcast anche te sì ho un canale youtube vecchio e ho un canale podcast che ho aperto durante il lockdown ho fatto dei video uno in particolare che funziona ancora adesso ho fatto non so quanti più di un milione penso di visualizzazioni veramente? sì ma è un video veramente brutto eh ma cosa vuol dire? è un video dal titolo migliorare incredibilmente in quattro minuti in quattro minuti? quattro minuti cioè prendi esci vai a correre io ho presentato un allenamento Tabata ok quindi 20-10 questo allenamento questo video è stato fatto perché come regalo di Natale ai miei clienti e gli ho registrato questo mio allenamento da quattro minuti glielo ho mandato scherzando dicendo dopo che mangiate il pandoro fate questo e poi l'ho pubblicato su internet inizialmente privatamente poi l'ho messo pubblico il titolo è stato Boom è un video che avrà dieci anni poi l'hai pubblicato nel periodo di Natale? sì ebbè quindi tutti quelli che erano fuori forma a Natale avranno detto adesso mi rimetto in forma esatto quel video lì ha fatto Boom il video è fatto veramente male così proprio casalingo ma il titolo è stato azzeccato e un sacco di persone ma decine di persone mi iscrivevano chiedendomi consigli su quell'allenamento su come fare su quante volte a settimana eccetera eccetera da lì ho fatto altri video più o meno interessanti sempre in maniera molto casareccia con il telefono eccetera però poi ho un po' abbandonato negli ultimi anni non ho più fatto nulla non che non mi piacesse ma non so diventa sempre più difficile anche perché adesso tieni la qualità alta oppure devi avere dei contenuti veramente importanti interessanti anche perché rischi di diventare banale poi ormai su youtube trovi tutto e farli per farli e basta se li faccio vorrei fare bene perché pensavo a un po' quello che mi hai raccontato prima degli atleti perché tu oltre ad atleti che fanno maraton segui anche atleti che fanno ultra ultra maraton si chiamano o comunque 24 ore o il ragazzo che mi hai parlato prima che ha fatto l'attraversata degli Stati Uniti non mi ricordo Alex Bellini esatto Alex Bellini che gli fa tutta l'assistenza durante l'attraversata quello lì è uno dei contenuti cazzo vero che è figo no che veramente potresti fare te ma veramente pochi scusa posso farti perché dovrei farlo poi perché a me piacerebbe vederlo il mio ritorno a livello di marketing no no non so però facci i soldi no no ok non è quello secondo me è il fatto hai avuto le altre persone sì potrebbe essere secondo me potrebbe essere una buona ispirazione per tanta gente un'ottima vetrina per te perché comunque puoi dare oltre al fatto di far vedere l'impresa che sta facendo una persona tu sei la persona tu sei la figura professionale di fianco a quella persona e quindi un possibile tuo cliente può vedere da vicino come lavori con un atleta di quel livello sì però potrebbe non essere nel mio interesse attirare altri clienti no no sicuramente però sai non sai mai in un futuro chi può vedere l'unica molla che mi avete fatto un po' vibrare è l'aiutare le altre persone eventualmente ok perché non mi interessa trovare altri clienti però magari un atleta della madonna non so che che non hai mai conosciuto vede questo progetto che fai con questa persona che comunque è abbastanza importante famosa vede come lavori dice cazzo io voglio che sia Simone il mio prossimo preparatore o magari per un progetto particolare che a cui te cioè che ti piacerebbe magari un sacco collaborare allora devo dire la verità che attualmente nella mia posizione nel mio momento lavorativo avrei bisogno mi piacerebbe molto un progetto importante adesso grosso sì mi sento maturo pronto ecco a questa cosa qui che carico carico non ho idea di cosa potrebbe essere perché poi considera che io sarei disposto a stare via a stare in giro per il mondo tranquillamente ma ho una famiglia con due figli quindi ho pensato ancora di propormi in qualche squadra professionistica come coach come preparatore ma il tipo di vita che ne consegue non posso farla non posso farla non voglio farla a meno che ok se no parliamo di soldi cioè detto proprio fuori dai denti è ovvio però attualmente i soldi vorrebbe dire sono tanti per fare quel sacrificio lì vorrei parecchi soldi altrimenti no ma non è un discorso di soldi non è solo un discorso di soldi non ti so dire quale sia la mia ambizione in questo momento non ho obiettivi grossi lavorativi però ti so dire che cosa mi piace fare e il fatto di fare assistenza a questo tipo di cose il fatto di fare assistenza più volte sono stato sono stato in Norvegia a fare assistenza a un atleta che ha fatto degli Ironman estremi sono stato quando sono sul campo proprio quando sono sul campo e so fare massaggi sportivi so organizzare a livello logistico gli spostamenti so utilizzare le GPS le cartine coordinate farmi trovare lì a quell'orario dargli dei feedback e questa è la cosa che mi piace di più dare dei feedback dall'esterno all'atleta dei feedback chiaramente utili dei feedback che servono per mettere in condizioni l'atleta di esprimersi al massimo o di superare un problema non feedback dai dai bravo bravo è che sei a 10 secondi dal tipo lì davanti non so varie cose che mi consentono di metterlo nelle condizioni di massima prestazione secondo me nel senso io ti ho fatto quell'esempio non per dirti dovresti farlo a livello di promozionale no no certo cioè secondo me nel senso la grande verità è che sì ci vuole la parte diciamo così professionale o comunque la ricerca di nuove opportunità ma in realtà secondo me è una cosa talmente bella cioè comunque ma anche solo un ricordo ma anche solo avere il ricordo di alcune cose che non potrai mai ricordarti nel senso ti ricordi l'esperienza ti ricordi ti ricordi che hai fatto quella cosa lì però dopo anni non so la battuta la cazzata che hai detto non so lo scorcio che hai visto quelle cose lì se non hai una fotografia un video non puoi ricordarti no hai ragione tante volte mi è capitato di mettermi lì e cominciare ad editare video poi dopo vuoi per mancanza di tempo vuoi perché comunque mi interrompo cioè poi ho una vita che ho un ritmo tranquillo tranquillissimo ma lavoro dalla mattina alle 6 alla sera alle 9 piano ma sempre sto anche studiando psicologia adesso all'università sto facendo la seconda laurea già faccio fatica a trovare il tempo per quello torniamo al discorso di prima che o ce l'hai dentro che vuoi farlo se no meglio lasciare stare devi investire allora devi assumere un videomaker che ti segue e fa tutte quelle cose potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea ci ho pensato spesso avrei anche delle persone di riferimento anche te volendo non so se sei disposto però mi è venuto in mente ho smesso di fare quel lavoro mi è venuto in mente molte volte sì può essere sicuramente devo trovare prima il perché il perché però potrebbe essere se dovessero aiutare qualcuno allora potrebbe essere un perché fateci sapere qui sotto nei commenti se avete qualche progetto matto che volete proporre a Simone più sono matti i progetti più Simone risponderà alle vostre richieste soprattutto se è un campo in cui non conosco nulla li do al massimo ok è credibile ma è così beh direi che siamo arrivati alla fine di questo podcast anche perché siamo andati parecchio lunghi mi fa molto piacere sì ti dico mi sono tenuto un po' di domande sul discorso ultramarto che faremo un'altra volta faremo un'altra puntata se volete vedere un'altra puntata con Simone anche perché Simone ha di storie da raccontare oggi abbiamo solo parlato degli aspetti tecnici ma se avessimo cominciato a parlare di tutta la tua storia i viaggi che hai fatto le cose cioè in realtà se volete vedere qualche assaggio di queste storie potete tornare sul mio canale YouTube dove abbiamo fatto durante il lockdown una bellissima live su YouTube insieme a Simone dove ci ha raccontato davvero tantissime cose super super interessanti detto questo ragazzoli se hanno domande o robe strane possono commentare che così rispondiamo magari rispondi anche te se siete su YouTube ovviamente perché se state ascoltando questo podcast su una piattaforma di podcasting ovviamente non potete commentare ma potete andare su YouTube iscrivervi al canale seguire i podcast sulle varie piattaforme visto che sono praticamente ovunque che sia Spotify Apple Podcast Amazon e tutto il resto noi ragazzoli ci vediamo al prossimo episodio la nostra lista degli ospiti si allunga sempre di più e abbiamo in programma tante tante belle conversazioni con tantissimi personaggi super interessanti grazie Simone per essere stato con noi e averci raccontato davvero tantissime cose grazie Tobi grazie Erwin grazie a voi grazie a te ci vediamo alla prossima ciao ciao hola ciao